vita non è possibile no non lo so comunque sia io che pago non si sa pago anche lui aveva preso altri due nella palese sì che non mi ricordo due due ma io non c'ero per quello non mi ricordo è ovvio tu non c'eri quindi due due e poi penso se ti nominavo io no sai cioè ovviamente sarebbe si sta spogliando sarebbe finita in tragedia greca che ma figurati ma figurati hai finito Antonio no continui a star lì dentro e quindi no in totale probabilmente quindi c'è un misterioso che ancora non si è svelato che ti ha nominato che tu non sai probabilmente un paio un paio ma quanti devono nominarti per che ne sono alla fine infatti è notato quando Alfonso ha nominato prima pago poi pago mi ha guardata sorridendo con le braccia così perché lui se lo sentiva ma me lo sapeva infatti me l'ha detto questi adesso mi nomina no ma me lo sentivo anch'io cioè di me me lo sentivo ma poi sì io io no io onestamente non non avrei mai pensato sì sì ma che tu sei sempre così equilibrata tranquilla te fai i cavoli tuoi forse perché ti fai troppo i cavoli tuoi dovrei ah sì sì l'ho pure detto a un confessionale dovresti entrare più più di di come di 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 in simpatia sempatia socializzare scherzare fare dire fare baciare lettera testamento se no ma perché ma no lo dico per ridere perché dovrei essere ma non devi affatto non devi affatto